Come distruggere Bitcoin? 1. Comprare un sacco di miner 2. Avviare i miner Ma la domanda che dobbiamo veramente porci è Quando smetteranno di crescere i costi elettrici? Attualmente, ad ottobre 2018, la rete Bitcoin ha una potenza di hash in totale di circa 60 exahash al secondo. Questo equivale a 60 per 10 alla diciottesima hash ogni secondo. L'ultimo modello di un moderno miner Bitcoin, come l'Antminer S9 Hydro, secondo il produttore, produce circa 18 tera hash al secondo, o 18 per 10 alla dodicesima. Ciò significa che vi sono circa l'equivalente di 3.333.333 Antminer S9 Hydro attualmente operativi nell'intero mercato, che al costo di 719 dollari l'uno fanno un totale di circa 2,4 miliardi di dollari. Per ottenere il 50% della potenza di calcolo totale, è necessario raggiungere il totale della potenza computazionale del mondo alla rete. Man mano che altri minatori si uniscono alla rete, diventa sempre più difficile per tutti estrarre Bitcoin. Se il prezzo di Bitcoin non aumenta, diventerebbe poco redditizio continuare a minare blocchi per gli alti minatori, e non avresti molte difficoltà nel conquistare il 50% della rete totale. Potresti anche essere in grado di costruire miner più economici di quelli che vendono online, ma i margini non sono enormi. Riassumendo, un'organizzazione dovrebbe aspettarsi di investire in solo equipaggiamento da mining circa 2,4 miliardi di dollari per avviare l'attacco. A questa cifra andrebbero poi aggiunti tutti i costi addizionali, ovvero elettricità, mano d'opera, ecc. Un Antminer S9 Hydro consuma 1728 watt, quindi 3.333.333 Antminer consumerebbero circa 5.760.000 kilowatt all'ora, ovvero 50.450 gigawattora all'anno. In prospettiva, la più grande centrale nucleare del mondo, ovvero la centrale nucleare Bruce in Ontario, in Canada, genera circa 47.000 gigawatt ora in un solo anno. Il consumo di bitcoin di 5.760 megawatt equivale a circa l'1% dell'intero mondo. Questo dovrebbe farti capire quanto sia sicuro bitcoin e quanto sia difficile per un unico gruppo reperire abbastanza elettricità per attaccare bitcoin sul mercato aperto. Supponendo che l'attaccante abbia scelto il contratto più economico disponibile, l'attacco costerebbe dai circa 4 centesimi ai 6 centesimi di dollaro per kilowattora, il che equivale a circa dai 230.000 ai 345.000 dollari l'ora per l'elettricità, o circa 2.522.880.000 dollari all'anno. Sì, hai capito bene, 2 miliardi e mezzo all'anno solo per mantenere vuoti i blocchi di bitcoin. Un sito interessante che dà una buona visione sul costo teorico e sulle possibilità di attacchi 51% sulle varie criptovalute ad oggi presenti è Crypto51.app. Quindi, quando smetteranno di crescere i costi elettrici? Mentre gli altri miner scompaiono lentamente, il consornaliero di elettricità potrebbe diminuire poco a poco. Non è chiaro per quanto tempo gli altri miner sarebbero disposti a resistere, forse un mese è sufficiente, ma potrebbe volerci un anno o più. In un ulteriore aumento delle spese, invece, l'attaccante potrebbe anche dover acquistare più miner e spendere di più in elettricità per mantenere l'attacco in corso. Un aggressore della rete spererebbe che gli altri minatori cadano rapidamente in stato di insolvenza. Sarebbe difficile recuperare denaro sui miner acquistati, poiché possono solo estrarre bitcoin, e bitcoin ora è molto, e quindi non avrebbero alcun valore di rivendita. Grazie a tutti.